La chiusura? Veloce perché i tempi sono strettissimi. A riguardo i ricorsi, è vero che costano, però non bisogna essere così, dessinisti. Io faccio parte del comitato Gronda Nord, abbiamo lottato contro la Gronda Nord, abbiamo fatto diversi ricorsi anche a livello, tra l'altro europeo, certo abbiamo dovuto tirare sui soldi, però abbiamo vinto e siamo riusciti a fermare la Gronda, questo è la nostra idea. Se avete lasciato la vostra mail, vi invieremo la lettera che abbiamo spedito al sindaco Isabia e vi teremo aggiornati riguardo le future iniziative del comitato La Goccia. Questa lettera è già stata mandata a tutti i cari del nostro portato. Prima di salutarci vorrei ricordare che la petizione per i luoghi del cuore è possibile farla anche online, quindi invitiamo a firmare anche online e a far firmare anche i vostri amici. Ultimissima cosa, il comitato La Goccia si unisce ogni 2-3 mercoledì, vi invieremo la comunicazione per la prossima scopocazione. Grazie a tutti per la serata.